Secondo me l'autonomia si farà ma con tempi e modi diversi rispetto a quelli previsti dal governo Salvini. Io spero che non si faccia. Io spero di sì, ad ogni modo tutto sta nelle mani poi loro. Possiamo solo sperare noi cittadini di avere dei politici che parlino bene, che non dicano parolacce, che si comportino come persone educate, che diano il buon esempio e che litighino e insultino continuamente. Per me no, per me non si farà niente, sicuramente, oppure come la vogliono loro che non serve niente. Dovrebbe farlo. Lo spero? Lo auguro molto. Questo governo no, questo governo no, non la farà. Quindi non ha fiducia? Non è che non ho fiducia, io guardo alle loro idee, ai loro programmi.